musica 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 buttimo ci ammelo nella sacale andiamo in questa qua in due abbiamo un bello di me io sono un po' alto se vuoi preferirei cambiare allora vai in questa ecco vai perfetto aspetta che io trovo un pompa benzinaio eh dai ti raggiungo vai lì ti raggiungo figa ne ho ucciso uno si sente nella casa davanti stanno venendo ti lancio la dinamica ti ha ferito un bot guarda lo sapevo come ha stilato c'è un altro ma non ci credo è figa troppo forte quanto ti piace stilare ci sente guarito di me merda arrivo ah ok l'ho visto questa volta la stilata io forse c'era un'altra mi sa ah no è morto su lo so però ho sentito tipo il rumore del palloncino c'è un coso qua c'è un coso qua c'è un coso qua l'ho ferito è roba mia merda l'aereo mio cane mi ha dato tutta la vita mi ha dato tutta la vita ma nooo la ricaricare il coso se non volevo fare il fatto quello lì altro non so non penso però quello lì si sto aereo di merda non ha rotto il cazzo è venuto poi è arrivato mi si è schientato in testa no ma non ha senso ho rotto il cazzo mi ha tolto tutta la vita avevo 175 di vita ma la tolta tu sono qua davanti a maglie viste ci ha lanciarazzi non ci credo lo sapevo ti ci ho fatto una cosa ho fatto una cosa a Leo ti giuro da 3000 IQ ma 3000 eh si hai fatto il muro si ma lo sapevo perchè l'avevo visto prima che lui mi vedesse avevo visto che c'è qualcosa l'avevo detto dai tranquillo che questo qua appena mi vede mi spara tieni tieni questo allora io gli ho fatto una scala prima di eeeh che mi vedesse madonna anzi io l'avevo piccata troppo scarsissima comunque tra virgolette un'accia pochissima anilita ok una terra arrivo 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 è one shot è one shot dagli due funzionate ok bene ok salvi forse non c'è più nessuno forse spero io c'ho il melee comunque bello comunque quando sei nella casa e uno è fuori le finestre ti fregano troppo io l'ho fregato grazie alle finestre c'è gente fuori porca troia porca troia sali sopra merda vaffanculo dalle finestre eh mi ha visto mi ha visto uno è ucciso si uuuh li si è fatti tutti si sai che ci sono si si sono qua dove madonna quanto l'ho sciolto questo altro neanche l'ho sciolto sali sopra di te eh aspetta sopra di me non riesco non ho capito dove è andata non ho sentito me l'ho sentito si ma anch'io no no ma è qua l'ho visto io gli ho sparato vai verso la safe no perché tanto va a restare il compagno quindi spacca pure il suo compagno è qua ah è qua davanti a me qua dentro qua sotto di me c***a l'altra aveva delle cose buone no non c'è un armi non c***a io ho un'ansia ti chiedo e io ci sono la torretta dimmi dove sei io sono sopra guarda fai entrare sto scemo io non ho armi eh eh beh give ehm a trial ma cosa? quanto è passato attraverso Gino? si è una gran sega tua borgo peggior che posso mai fatto nooo non sono riuscito manco a confermarlo pazzesco ma c***a ma io come c***o sti ero armi? ma no perché questo qua ha preso le armi il... il John Wick vabbè incredibile 20 e 67 vabbè vabbè incredibile c***a e gillet ssh oh no vieni qua però figa gli aerei che sfatto ma no silenzio ssh 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 vieni questi due veloce mi piace dispensare ricchezza a me c'è uno che sta arrivando verso di noi ok 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 ucciso arrivo 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 ssh ssh uno mi sta facendo pure il giro ti giuro sono stra confuso figa no sto qua è un botto con... ce n'è uno confusissimo che mi sta pushando dal lato l'ho colpito quello che... camminavo inginocchiato figa si ma... ci stai? si buttato giù bravo è distrima entrati dentro questo c'è ok una terra aveva delle cure quelle lì che le ho cocciso da te f f uno l'ho lasciato bianco sono giocatore più forte da stare di forno nessuna delle cazzo di cure figa c'è gente tipo qua... ah stiamo fightando andiamo subito a spettacolo vai io sono un botto con tutti i giorni sono qua da me eh ce n'è uno anche da maggio sta facendo cadere forse vai tra c'è un palloncino mi sono bloccato tutto ah no ok non c'è più il palloncino bello un botto gil vengo da te oh che rompi i coglioni quello madonna eh questo qua muore però secondo me per la seta ah no vabbè io uno l'ho ucciso eh mi ha ucciso un twitch di troia bravo 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 fai via iq eh questa cosa il problema allora siete secondo me c'è ancora qualcuno dietro quindi fai attenzione gil non ho materiali figa zero spacca sto cosa vabbè sei in safe adesso ma zero proprio quanti ne hai ma zero proprio no però c'era pochissimo sali di lì a finita sali di lì sei uno contro uno devi salire adesso devi salire adesso so ah apriti sto airdrop no mi sente ci sta 3570 hai chio figa quanti materiali hai in totale 150 e la sopra? spacca 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 nooo che sfiga devi andare in safe e di la ah è vero è vero è vero aspetta lì sotto la scala lì sotto la scala qua figa 3500 eh ma lì ti vede secondo me da sopra hm no perchè? dici? dov'è? eh però infatti di cuore non hai il campo visuale non vedi dove sta andando ah ha preso un cosa? è impossibile da prendere ho capito ah figa mi ha assistito c'hai senti che ti fa cadere veloce 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 finisco i materiali eh non so se ce la faccio ho zero materiali spara lì devi pusharlo lì devi pusharlo lì bravo figa come on guys come on bella ritardata questa figa lì è tutto il è tutto il Grazie.